Sul fronte della sicurezza la situazione a Bassano e in tutto il comprensorio sta completamente sfuggendo di mano. Negli ultimi due mesi abbiamo visto un aumento della micro criminalità, di furti, violenze e rapine. A di là dei numeri che possono dire che possiamo stare tranquilli, una cosa bisogna assolutamente evidenziare, che il fenomeno non è assolutamente sotto controllo, basta evidenziare la situazione in determinate zone della città, penso al piazzale Trento, al Proto Santa Caterina, al quartiere Nuova Firenze, quindi non solamente nel centro storico ma anche nelle periferie ormai la situazione è in mano a piccoli gruppi di persone che vivono di espedienti di criminalità e oggi a nostro parere, a parere della Lega Nord, la situazione è completamente fuori controllo. Quello che noi chiediamo al sindaco è un intervento immediato, veloce, che si finisca con questo buonismo che non sta portando assolutamente a nulla, è una città completamente ferma da otto anni a questa parte e sul fronte della sicurezza stiamo perdendo posizioni ma soprattutto la città è sempre...